Bentornati su Resta Quel Che Resta in un nuovo appuntamento con Tutto Edoardo, serie dedicata alle opere di Edoardo. Edoardo De Filippo, mio mito assoluto, amo lui, il suo teatro, i suoi personaggi, le sue opere e io ve le porto su questa serie, su questo mio canale. Vi ricordo, stavolta lo faccio subito, di lasciare like in questo momento. Non vi costa nulla, qui sotto c'è il pollice verso l'alto, è importante per sostenere il canale e per farlo crescere. E poi, se vi piacciono i miei video, non solo di Edoardo, c'è il tastino rosso qui sotto, che vi appare rosso se ancora non siete iscritti, ci potete cliccare sopra e così sarete iscritti al mio canale. E poi vi comparirà anche accanto una campanellina. Io vi invito a cliccare anche su di essa perché vi serve per rimanere aggiornati su tutte le nuove pubblicazioni. Oggi parliamo di Filumena Marturano, quindi rimaniamo con i botti grossi, i botti pesanti del teatro di Edoardo, passatemi questo termine. Perché nello scorso episodio vi ho parlato di Natale in casa Cupiello. Lo potete vedere, lo trovate nella sezione video del canale, ma se volete far prima, qui sotto in descrizione trovate un link con proprio la playlist di tutto Edoardo. Ci cliccate sopra e vi appaiono tutti gli episodi e voi potete vederli o rivederli. E se Natale in casa Cupiello era il successo di Edoardo a livello italiano, io ho detto napoletano e italiano, la commedia più conosciuta di Edoardo nel nostro paese, oggi con Filumena Marturano andiamo oltre, sfondiamo i confini nazionali perché Filumena Marturano è conosciuta nel mondo. In tutti i paesi è stata rappresentata e ancora oggi viene rappresentata Filumena Marturano. Credo sia veramente difficile trovare una nazione nel mondo dove una compagnia teatrale in un momento, o sicuramente in più riprese, non abbia rappresentato questa opera di Edoardo. Perché? Perché è un'opera fortissima con dei personaggi assolutamente forti che dan soddisfazione, credo, anche agli attori che decidono di rappresentarla e poi soprattutto è sicuramente un'opera napoletana scritta da Edoardo con personaggi napoletani ambientata a Napoli, ma in realtà questi personaggi e questa storia qui possono essere presi e portati in qualsiasi parte del mondo e ogni parte del mondo può avere, e anzi, uscendo dai discorsi teatrali, poi capirete anche la storia che adesso vi vado a rappresentare, ogni paese ha le sue Filomene, i suoi Domenico. Quindi, questa era un pochino la premessa per prepararvi a qualcosa di importante, c'è una sezione extra di questo video e sarà quella che vedrete nel finale dello stesso, che è bella con tanti aneddoti, però ovviamente, come sempre in questa serie, si parte dalla trama di Filomena Marturano. Filomena Marturano, commedia in tre atti di Edoardo De Filippo, scritta e rappresentata per la prima volta nel 1946. La protagonista, nemmeno a dirlo, è una donna di nome Filomena Marturano, un personaggio così potente da avere anche nel nome stesso della commedia, appunto, il suo nome. Chi è Filomena? Filomena è una ex prostituta. Fino a 25 anni prima, rispetto al presente dell'opera, era una prostituta che vendeva il suo corpo in una casa di appuntamenti. Tra i clienti di questa casa di appuntamenti, precisiamo che Filomena faceva questo per esigenza, per gravissimi problemi economici, veniva da una famiglia poverissima, era una ragazza bella, affascinante e fu convinta da alcune sue amiche, diciamo così, a intraprendere questa carriera, per carriera non si può definire di certo, comunque a vendere il proprio corpo. Ecco, in questa casa di appuntamenti dove Filomena si prostituiva, c'era tra i clienti Domenico Soriano. Domenico Soriano, commerciante nel ramo della pasticceria, un uomo importante, un uomo facoltoso, un uomo che amava e ama tuttora nel presente della commedia fare la bella vita, che era un cliente abituale di Filomena e che però a un certo punto, appunto 25 anni prima rispetto al presente, decise di toglierla, toglierla da questa casa di appuntamenti e portarla a casa con sé, senza mai regolarizzarne il rapporto, quindi senza sposarla, ma tenendola a casa, un po' come mantenuta, ma più che altro facendo poi svolgere a Filomena le mansioni domestiche, quindi mandare avanti la casa e dare anche una mano per quanto riguarda le attività commerciali di Domenico. Che cosa succede? Questo è il passato dei due protagonisti. Andiamo al presente. Filomena sta male, Filomena sta morendo, Filomena si trova in un letto, non è più la ragazza di 25 anni prima, oggi è una donna tra i 45 e i 50 anni, sta male, sta male e in un letto agonizzante sta per morire. Ha un ultimo desiderio, quello di sposare Domenico. Dopo questi rapporti, dopo questi 25 anni passati insieme, Filomena vuole diventare la moglie di Domenico Soriano prima di chiudere gli occhi per sempre. Domenico non è entusiasta di questa cosa, a dire il vero, però non se la sente di negare questo ultimo desiderio a Filomena e quindi in presenza di un prete, proprio nella stessa camera di Filomena, mentre lei è nel letto in agonia, viene ufficializzato questo matrimonio. Ecco, adesso sipario. Perché dico sipario? Perché quello che vi ho raccontato fino ad ora nel copione teatrale di Edoardo non c'è, non viene rappresentato, ma viene solo successivamente raccontato. Sì, perché Edoardo sceglie di iniziare la commedia quando già è scoppiato un botto, un bel botto. E di che cosa sto parlando? Di una rivelazione. Filomena non sta morendo. Filomena, una volta che il prete l'ha sposata con Domenico e se n'è andato, si alza, si alza candidamente dal letto, fa gli auguri anche a Domenico Soriano per il matrimonio appena celebrato, dicendogli siamo marito e moglie e rivelando l'inganno. Non sta assolutamente morendo, ma ha architettato tutto questo per sposare Domenico. E infatti, quando si apre il sipario, assistiamo a questo Domenico Soriano che si prende a schiaffi, che si definisce pazzo, che si definisce stupido per aver creduto, per essere caduto in questa trappola e il primo atto è meraviglioso, perché assistiamo a queste due belve feroci, una da un lato del palco e l'altra dall'altro, un po' come quasi due pugili sul ring, che si rinfacciano 25 anni di sfruttamento, possiamo dire, dalla parte di Filomena, senza mai una parola gentile, anche con episodi sfacciati di Domenico davanti ai suoi occhi. Filomena racconta di un Domenico che assolutamente non si è mai fatto problemi a frequentare altre donne, a tornare a casa con la camicia sporca di Rossetto, tanto alla fine Filomena che cosa può dire? Non è mica mia moglie e quindi io faccio ciò che mi pare. Dall'altro lato, Domenico che accusa la donna di essere stata sempre una donna fredda, sempre una donna dal carattere forte, di non averla mai vista piangere, mai emozionata, sempre con il broncio, sempre attenta a tutto e quindi i due si scontrano, ma soprattutto Domenico è arrabbiatissimo con Filomena per questa cosa che gli ha fatto ma non capisce nemmeno perché questo è stato fatto e l'accusa di volere praticamente i soldi, di aver avuto paura di essere abbandonata da Domenico, questo perché? Perché è importante segnalare anche che negli ultimi tempi Domenico stava frequentando una ragazza molto più giovane di lui, di nome Diana e che forse probabilmente era intenzionato anche a regolarizzare questo rapporto con questa giovane con conseguente allontanamento di Filomena e allora Domenico l'accusa di questo, dice hai fatto tutto questo per bloccarmi, per prenderti i miei soldi. In realtà Filomena non è a quelli che punta anzi gli dice di spenderseli con buona salute perché è altro che vuole da Domenico che cosa? Il nome, anzi il cognome in questo caso, perché lei adesso si chiama Filomena Soriano e può passare questo cognome ai tre figli che la donna ha. Sì, perché c'è una frase storica di questa commedia nella rivelazione di Filomena a Domenico, tengo tre figli, ho tre figli. Domenico ovviamente non ne sapeva nulla di questi tre figli che sono tre figli già grandi della donna e che sono figli concepiti con clienti di Filomena quando questa era ancora una prostituta che lei non si è sentita di abortire. C'è un bellissimo monologo di Filomena che racconta come è successo, perché non ha avvortito quando è successo la prima volta dicendo che si era ritrovata quasi per caso insomma di fronte a una rappresentazione della Madonna e aveva ingaggiato quasi un duello con lei, un duello verbale parlando alla Madonna rivolgendosi a essa dicendo che cosa devo fare, tu sai perché mi trovi in questa situazione e nel racconto c'è questa voce di una passante insomma che gli dice i figli sono figli, in realtà non lo dice a lei, sta parlando con qualcun altro ma lei associa questo a una volontà della Madonna di comunicare con lei attraverso i passanti e quindi ascolta diciamo così la Madonna e prosegue la gravidanza. Questo succede per altre due volte e quindi la donna gli rivela di avere tre figli e gli rivela anche di averli cresciuti a distanza proprio con i soldi di Domenico, i soldi che Domenico sperperava, i soldi che buttava e che nemmeno si accorgeva dal volta di avere e di conseguenza di perdere e lei ci ha cresciuto questi tre figli che però non sanno niente di lei, la conoscono di vista ma non sanno di essere suoi figli, lei non gliel'ha mai detto perché lei ha il suo passato doloroso, è un'ex prostituta e sa bene che questi ragazzi non avrebbero forse avuto piacere ma più che altro avrebbero avuto vergogna di sentirsi figli di una prostituta e quindi gli fa questa rivelazione sconvolgente e questo diciamo è un po' il primo atto. Successivamente che cosa succede? Domenico si rivolge a un avvocato perché vuole impugnare questo matrimonio e vuole farlo annullare praticamente perché l'inganno è palese. Filomena dal canto suo convoca questi tre ragazzi a casa sua e gli rivela la verità dicendo loro di essere la loro madre e racconta un po' chi è nei dettagli tutta la sua storia, anche qui un monologo molto bello della protagonista e gli dice la verità perché li vuole alla fine tenere a casa con sé. Domenico comunque vince diciamo così la sua battaglia, fa capire a Filomena che non può andare in fondo a questa storia perché legalmente il matrimonio poi alla fine sarà annullato e Filomena lascia la casa di Domenico trovando accoglienza da parte di uno dei tre figli che appare entusiasta di aver trovato comunque sua madre dopo esserne cresciuto senza ovviamente ma prima di andar via Filomena fa un'altra rivelazione a Domenico ovvero uno di questi tre ragazzi è tuo figlio. Questo non lo dice in presenza dei ragazzi ma glielo dice privatamente. Uno di questi tre è tuo figlio. Domenico inizialmente non crede a questa storia dice questo è l'ennesimo tentativo, l'ennesimo jolly che ti stai giocando per tenermi legato a te con questo vincolo contrattuale, passatemi questo termine, ma Filomena fornisce a Domenico una prova ovvero gli racconta, gli riporta alla mente un episodio di tantissimi anni prima quando lei ancora si trovava nella casa di appuntamenti, una sera in cui Domenico aveva detto spegni la luce e fingiamo di volerci bene per davvero, non facciamo sesso, sesso a pagamento, facciamo l'amore. E Filomena racconta di come lei quella sera ha fatto veramente l'amore con lui, non si è prostituita con lui ma alla fine poi quando il rapporto è finito Domenico le aveva lasciato comunque i soldi del rapporto quindi alla fine facendo capire che non credeva veramente in ciò che aveva detto. Non era così, non fu così invece per Filomena che conservò quella banconota e ci appuntò quella data sopra che è la data poi del concepimento di uno di questi tre ragazzi. Filomena gli riporta alla memoria questa storia ma gli ridà anche la banconota strappando però il pezzettino dove c'è la data per tenerselo con sé appunto dicendogli che i figli non si pagano. E va via, e va via Filomena. La scena si sposta insomma un po' di qualche mese e scopriamo che si sono riappacificati. Domenico e Filomena si sono riappacificati e convoleranno a nozze. Alla fine Domenico decide di sposare per davvero Filomena però gli fa capire che non riesce ad andare avanti senza sapere la verità appunto su questi tre figli. Chi di questi tre ragazzi è suo figlio? Domenico lo vuole sapere ma Filomena glielo nega. Ma glielo nega non per dispetto, non per tenere stretto a sé Domenico non è questo il discorso. Il discorso è che Filomena lo sa che se fa questa rivelazione a Domenico lui anche involontariamente ma tratterà meglio, tratterà diversamente questo figlio rispetto agli altri due e lei questo non lo vuole. Non lo vuole perché vuole ovviamente il benessere di tutti e tre figli e soprattutto perché sa che questo andrebbe a creare dei dissapori proprio tra i fratelli e lei non lo vuole. Devono essere uguali tutti e tre. Questo insistere di Filomena su questa cosa potrebbe anche far vacillare Domenico ma alla fine anche un po' teneramente dopo uno scambio di battute con questi tre ragazzi dove Domenico anche in maniera divertente cerca un po' di capire chi dei tre può essere effettivamente suo figlio. Quindi cerca di studiare un po' il carattere, a quello piacciono le donne quello lì canta bene, insomma tutte queste cose qua. Alla fine Domenico si convince a fare come vuole Filomena anche perché c'è un momento dove i tre ragazzi anche involontariamente, anche proprio naturalmente lo chiamano papà e lui si scioglie di fronte a questo, capisce che può accettare questa tripla paternità senza dover sapere quale dei tre è legato con legami di sangue a lui e accetta, accetta di sposare Filomena che poi nel finale di questa commedia si scioglie in un pianto liberatorio. Veniamo ai contenuti extra, allora questa commedia è stata scritta da Edoardo per sua sorella Titina Titina De Filippo, una dei tre fratelli De Filippo insieme a Peppino, i tre erano anche i protagonisti della compagnia De Filippo negli anni 30, prima che quest'ultima si sciogliesse per dissapori, per divergenze persone pesantissime tra Edoardo e Peppino, ma poi Titina ha continuato a lavorare con Edoardo ed Edoardo in quegli anni lì, siamo nel dopoguerra, scrive questo personaggio per regalarlo a sua sorella. Questo perché? Perché nella commedia precedente, che comunque aveva avuto successo, parlo di questi fantasmi il ruolo di Titina era un ruolo un po' piccolo, dove lei aveva avuto poco risalto e quindi aveva deciso di scrivere una nuova commedia con una bella protagonista femminile e di consegnarla a Titina. Evidentemente Edoardo non si rese forse conto, mentre scriveva quest'opera, che stava regalando a Titina un personaggio pazzesco, ma lo stava regalando al mondo e parlando proprio di Titina questo personaggio la portò in alto, questo personaggio ebbe un successo clamoroso e praticamente in quel momento lì credo che Titina De Filippo si ritrovava a essere per la prima volta la componente dei tre De Filippo più importante, comunque di cui si parlava di più dopo tanti anni dove quest'ultima era comunque un po' all'ombra dei due fratelli di Edoardo e di Peppino che avevano più successo, sia quando lavoravano tutti e tre insieme, sia quando questi due si erano separati avevano carriere separate. Quello era il momento di Titina De Filippo che andò praticamente in simbiosi con il personaggio di Filumena, ci sono tanti aneddoti, Edoardo ha raccontato di prime file di teatro occupate da ex prostitute che poi dopo lo spettacolo andavano in camerino a baciare le mani a Titina a piangere con lei perché gli dicevano anche a me è successa la storia proprio di Filumena oppure si racconta di uomini adulti che si sono ritrovati nella condizione di figli di Filumena e quindi andavano anche a raccontare le loro storie, lettere che Titina riceveva, insomma un successo clamoroso un successo che però Titina non è riuscita a godersi tantissimo anche se ha avuto tante soddisfazioni tanti riconoscimenti, addirittura quello di recitare il monologo con la Madonna davanti al Papa davanti a Pio XII. Gli attori furono, gli attori della compagnia di quel momento lì, sempre degli anni 50 furono ricevuti dal Papa e il Papa espresse il desiderio di assistere davanti ai suoi occhi a questo monologo che Titina recitò, quindi veramente tanta soddisfazione. Però Titina non riuscì a goderselo appieno perché pochi anni dopo questo grande successo iniziò ad accusare i problemi di salute, i problemi cardiaci che poi la porteranno prima al ritiro dalle scene e poi alla morte, se non erro nel 1963. Infatti, in tema di versioni che voi potete vedere, perché in questa sezione extra vi dico sempre un po' quali versioni potete vedere, qui ce ne sono tantissime, quella lì di Edoardo, quella registrata per la televisione del 1962, vede come protagonista Regina Bianchi che, ovviamente il personaggio è associato sempre a Titina ma ne fa una versione strepitosa, veramente. Andatela a vedere, la trovate sul Rayplay, potete comprare il DVD. Questo nell'edizione, scusate, 1962. Però, però, se volete vedere Titina de Filippo nei panni di Filumena potete guardare il film, perché nel 1951 Edoardo realizza il film per il cinema di Filumena Marturano chiamandolo proprio Filumena Marturano e confermando sua sorella come protagonista. Il film non ebbe tanto successo. In effetti fu una trasposizione televisiva dell'opera teatrale quindi aveva anche forse poco di cinema, non ebbe particolare successo. In questo caso bisogna segnalare che Edoardo, anzi più che altri produttori del film, avevano pensato di far fare la parte della protagonista ad Anna Magnani, attrice strepitosa che in quegli anni era assolutamente di alto livello, parlando proprio a livello mediatico, e poteva essere lei la protagonista, la Filumena di quel film, anzi pare che proprio Anna Magnani avesse desiderio di interpretare questo personaggio strepitoso. Però Edoardo non se la sentì, perché era una possibilità di dare comunque a sua sorella anche un successo cinematografico e non se la sentì di toglierglielo e quindi il successo, scusate, il film non ebbe particolare successo. Un film al cinema che ha dato tantissimo risalto a questa commedia è Matrimonio all'italiana. Ecco, anche questo ha contribuito al conoscere questa storia a livello mondiale, perché anche questo film è andato in tutto il mondo. Matrimonio all'italiana, 1964, regia di Vittorio De Sica, con protagonisti nei panni di Filumena e Domenico, una coppia top, clamorosa di quel periodo lì di attori, ovvero Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Storia ovviamente presa dal soggetto di Edoardo con delle modifiche e dove però assistiamo attraverso tanti flashback anche a tutte quelle cose del passato, quelle lì che vi ho citato all'inizio della trama, ma che come vi ho detto nell'opera teatrale non ci sono, solo raccontati, ma non si vedono. Matrimonio all'italiana, successo clamoroso, successo mondiale, se non sbaglio anche film candidato agli Oscar all'epoca, ma anche se non lo vinse, e che ha permesso poi di far conoscere il mito e la storia di Filumena in tutto il mondo. Quindi insomma queste un po' di edizioni, poi è stata fatta da Massimo Ranieri una decina di anni fa insieme a Mariangela Melato, è stata fatta da Isa Danieli, è stata fatta da Luca De Filippo e Lina Sastri, anche loro due, anche il figlio di Edoardo insieme a Lina Sastri hanno fatto un'edizione di Filumena, la trovate, io ce l'ho in DVD in una collezione speciale dedicata a Luca De Filippo, che tra l'altro curiosità, curiosità che ben si lega al video precedente a questo qui, Lina Sastri e Luca De Filippo sono anche i due fratelli, i figli di Luca Cupiello in Natale in casa Cupiello, cioè Ninuccio e Tommasino, in questo caso sono Filumena e Domenico, ovviamente tanti tanti anni dopo rispetto a Natale in casa Cupiello. Quindi questo, questa era Filumena Marturano, opera veramente importante, magari qualcuno non la conosce e gliel'ho fatta scoprire io, però se per altri video magari penso, magari non l'andranno a vedere questa qui, gli basta il mio racconto per fargliela scoprire, io vi dico una cosa, andatela a vedere, soprattutto nelle versioni film di Edoardo Contitina oppure la versione televisiva con Regina Bianchi che vi ho detto su RaiPlay, andatela a vedere se non l'avete vista, perché è importante conoscere un pezzo di storia del cinema, del teatro e della cultura italiana. Noi ci vediamo nei prossimi video, ciao! 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 Grazie.